La pacchia Buonasera Buonasera a Bernard Rilevy Filosofo, intellettuale Giornalista e tantissime cose Intellettuale francese Intellettuale europeo collegato da Parigi Buonasera, grazie di essere con noi E amico dell'Italia E amico dell'Italia Innamorato dell'Italia Certamente Allora, le faccio vedere due politici italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni In campagna elettorale E poi ne parliamo Hanno votato in Svezia E hanno mandato a casa la sinistra In democrazia funziona così Hanno votato in Francia Hanno rieletto Macron Io ti favo per l'amica Marine Le Pen Ma in democrazia Chi vince, vince Hanno votato in Ungheria Voteranno fra qualche settimana Negli Stati Uniti d'America E spero che votino per i repubblicani Diano una sonora lezione ai comunisti A stelle strisce Che sono là e sono qua a darci lezioni Eh no Io penso che se al posto di Biden Ci fosse stato Trump Molte cose sarebbero andate in maniera diversa L'unica nazione che non ha difeso il suo interesse nazionale Grazie al PD Che in cambio delle pacche sulle spalle Che gli davano i francesi e i tedeschi Governava senza aver mai vinto le elezioni Il PD ha deciso che noi Non dovevamo difendere i nostri interessi Allora adesso dicono Eh ma in Europa sono un po' preoccupati Dalla Meloni Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia? Lei conosce Salvini e Meloni? Cosa pensa di loro? Ecoutez, non La Meloni non la conosco Ma ho avuto degli scambi Dei dibattiti con Salvini Un paio d'anni fa in televisione E francamente l'avevo trovato patetico Patetico e ridicolo Mi aspettavo Che ne so Un matamore Un matamore E invece era uno sganarello Un personaggio di una debolezza Assolutamente straordinaria Comunque scherzi a parte Quello che si sta preparando oggi È una cosa molto triste per l'Italia L'Italia che è la culla dell'Europa La culla dell'idea repubblicana e democratica Merita meglio l'Italia di Salvini O della Giorgia Meloni O di Berlusconi Senta, ma allora perché l'Europa È così preoccupata di loro? Perché l'Europa Pensa che la pacchia sia finita Come dice Giorgia Meloni La pacchia Che ne so Non so che significa Sono appena tornato dall'Ucraina Sono stato sulla linea del fronte Dove i bambini, le donne Vengono martirizzati Bombardati Credetemi In Ucraina non c'è nessuna pacchia In Ucraina c'è l'orrore La guerra I valori europei Che vengono violati Non c'è certo la pacchia lì Ne parliamo tra poco Certamente lei è appena stato in Ucraina Appena tornato Ne parliamo sicuramente tra poco Ma mi permetta di fare altre due domande Sulla campagna elettorale italiana Quando si parla di Europa Di cosa si parla esattamente? Di un'Europa dell'elite Dei liberali Di una sinistra Che però Ha smesso di parlare al popolo Lasciando un campo largo Ai populisti Ai sovranisti Che spadroneggiano Nelle periferie E in molte altre zone Non c'è una responsabilità Anche dei liberali Della sinistra Delle elite Nella crescita del populismo Forse c'è qualche problema Ecco Allora Intanto le faccio vedere Cosa ha detto Il presidente del consiglio Mario Draghi Qualche giorno fa Venerdì In conferenza stampa La democrazia italiana è forte Non è che si fa battere Dai nemici esterni Dai loro pupazzi prezzolati Insomma Dobbiamo essere fiduciosi Nella nostra democrazia Questo non bisogna avere timore Di qualunque Di qualunque voce Di qualunque E' chiaro Che negli ultimi vent'anni Il governo russo E questo risulta Da amplissime Ricostruzioni internazionali Ha effettuato Una sistematica Opera Di corruzione Nel settore degli affari Nel settore della stampa Nel settore della politica In tanti settori In molti paesi europei E negli Stati Uniti Credo che sia tornata La linea Le chiedevo L'Europa delle elite Dei tecnici E della sinistra Non ha una responsabilità Nell'aver lasciato Il popolo Sguarnito Il popolo Che poi Si è rivolto Ad altre forze Alle forze del populismo Che cosa è questa storia? In che cosa L'Europa dei tecnici Sarebbe mai responsabile Della corruzione Degli uomini di Salvini Ci sono uomini Traditori della patria Traditori dell'Italia Che negoziano il futuro Del paese Nel retro bottega Con inviati Della basciata russa C'è Salvini Avete Salvini Che prepara Discretamente Secretamente Un viaggetto a Mosca Per andare A negoziare Il suo futuro politico E questo Mi venite a dire Che è colpa Dei tecnici Dell'Europa È una vergogna Nessuno È responsabile Degli uomini Di Salvini Del fatto che Berlusconi Abbia potuto dire Di Putin Criminale di Stato Terrorista di Stato Che abbia potuto dire Berlusconi Che era un umanista Un uomo Di grandi qualità Morali In che cosa Draghi o gli europei Sono responsabili Di questa infamia Dichiarata qualche anno fa Da Berlusconi Smettiamola con questa retorica Smettiamola Con questi ragionamenti Speciosi Oggi C'è una tentazione Fascista In Europa In particolare Nei prossimi giorni In Italia In Italia Bisogna prenderla di petto E non andare a cercare Responsabilità Occulte Nascoste Complotti Occulti E Non è Onorevole Per il popolo italiano Non andiamo a cercare Capri spiatori Sono sue parole Bernardo Rilevi Sono parole molto Dure La domanda È esattamente quella Proprio perché Non ci sono poteri Occulti Perché L'elettorato Fa altre scelte L'elettorato Va sempre rispettato In democrazia Credo No No Non bisogna sempre Rispettare L'elettorato Quando gli elettori Portano al potere Benito Mussolini O Adolf Hitler O anche Vladimir Putin Beh Questa scelta La loro scelta Non è rispettabile Certo Fanno una scelta Ma non è una scelta Rispettabile La loro Smettiamo di dire Insomma La democrazia Sono due cose Volontà popolare Certo Ma è anche Il rispetto Di alcuni Valori Di alcuni Principi Fondamentali Che caratterizzano Anch'essi La democrazia Un fascista Che arriva al potere Attraverso le urne Non si converte Automaticamente In democratico Ci vogliono Due condizioni I principi Della civiltà Democratica Da una parte E dall'altra Naturalmente L'imprimatur Del suffragio Popolare Le due cose Possono andare Insieme Lo sapete bene Il giorno in cui Il maresciallo Pétain È stato investito Di poteri Dall'assemblea Popolare Francese Non è mica Diventato Automaticamente Un democratico Questo È il cuore Del ragionamento Populista Che sta così Facendo del male All'Europa Mi permetta Di dissentire Almeno sul suffragio Universale La democrazia Si basa Sul voto Popolare E qui Comunque Finora La campagna Elettorale Non è certo In mano A un Partito Che vuole Cancellare La democrazia Ma le faccio Una domanda Perché appunto È appena tornato Dall'Ucraina Che situazione C'è lì Putin Sta perdendo La guerra La guerra Sta cambiando Obiettivo Cioè Dalla difesa Dell'Ucraina Diventa una guerra Per rovesciare Putin Putin No Non è Una guerra Per rovesciare Putin È una guerra È caduta di nuovo La linea E penso Aspettiamo qualche istante Per capire Se torna Forse no E comunque Anche il nostro tempo È finito È peccato Perché avremmo voluto Ovviamente Sentire Cosa pensava Bernardo Levy Anche della Russia Di Putin E della guerra In Ucraina Dove è appena stato Adesso sente Eccolo Forse Sentiamo l'ultima L'ultima frase Prego Prego Cosa succede in Ucraina E se per battere Putin Bisogna rovesciarlo Allora stavo dicendo Dicevo appunto Che questa guerra In Ucraina Innanzitutto L'ha dichiarata Putin Putin l'ha voluta Numero uno Numero due È una guerra Per distruggere L'Ucraina Non è una guerra Per rovesciare Putin È una guerra Per distruggere L'Ucraina Una guerra Di distruzione Di annichilimento Dell'Ucraina Terzo Oggi Dobbiamo Assolutamente Questo è importante Per il futuro Dell'Europa Far sì che La guerra si fermi Che Putin Sia battuto Non che sia rovesciato Questa è una questione Che riguarda i russi Adesso questo cane Della guerra Deve lasciare L'Ucraina Questo va fatto Bisogna fermare i massacri I bombardamenti In tutti Questi giorni Presto lo leggerete Sul Repubblica Mi sono trovato Sulla linea di fronte Tra Kharkiv E Kherson Ho percorso La linea del fronte Fino a Mikolaev E ho visto Ho visto Patrioti Ucraini Che difendono Le loro case E i nostri valori E che Affrontano Un'armata D'invasione Un esercito D'invasione Un esercito Barbara Questa è la questione Ucraina Questa è la situazione In Ucraina Il nostro tempo è finito La ringrazio E proprio perché L'Italia Non è la Russia Di Putin Andiamo al voto Del 25 settembre In una situazione Di contendibilità Che è Il primo La prima caratteristica Della democrazia Buonasera Bernard Rilevy Grazie Buonasera Buonasera